A Canicattie caccia due malviventi che hanno aggredito un giovane bracciante agricolo straniero per rapinarlo. Quest'ultimo, un 27enne che risiede regolarmente da anni nel centro della provincia agrigentina, è stato avvicinato da due persone che lo hanno subito aggredito, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Obiettivo dei rapinatori il borsello nel quale la vittima dell'aggressione custodiva 150 euro. Il giovane, che ha riportato alcune contusioni, è rimasto stordito e sorpreso dall'accaduto, ma è comunque riuscito a chiamare i carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto e hanno raccolto le prime dichiarazioni della persona offesa, acquisendo elementi per cercare di accertare l'identità dei rapinatori. Questi ultimi, dopo aver compiuto il raid, sono fuggiti a piedi. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane rapinato.